buon ciao raga benvenuti dal vostro nonno della rete in questa nuova tech profile pokemon che vi ho portato il mio nuovo mazzetto sono felice perché è uno dei pokemon che con cui ho iniziato questa avventura pokemon siamo con eclissi cosmica diciamo che sembra un modo di dire però il deck è diventato molto obsoleto questo qui che vi farò vedere è uscito un pokemon che è riuscito a che è potuto ha potuto farlo ritornare nei migliori dei modi nel deck vi sto facendo vedere è roto e sicuramente c'è sì sì ci sarà sicuro un una tech profile si usava prima nei torni non lo so ma io la crea i ricordi poi senza zoro arc e soprattutto perché poi è diventato veramente con gli alleati sono diventate troppo piccoli però è uscito un pokemon forte però andiamo a vedere prima per chi non conosce che cos'è un rotom i rotom esistono di tanti tipi e hanno tutti quanti hanno tutti quanti un'abilità il rotomotore 69 o più cartoggetto pokemon nella pila dei scarti ignora tutte le energie necessarie per usare ciascuno degli attacchi di questo pokemon quindi qualsiasi attacco dei nostri rotom se abbiamo nove o più carte oggetto nella nostra pila dei scarti li facciamo gratis a gratis che cosa è uscito di nuovo che poi è bellissimo già come pokemon è uno dei miei preferiti troppo bello niders di alola con zero carta energia fa 10 per bufera di rifiuti questo attacco infligge 10 danni per ogni carta oggetto pokemon nella tua pila degli scarti quindi è proprio il pokemon perfetto per supportare i nostri rotom lo stesso attacco del è lo stesso attacco del vecchio la vecchia busta dell'immondizio no quello lo faceva 30 ma l'avversario mi si chiamava lo stesso mondo e ne montiamo tre e poi monto pure i nuovi volpix che ha l'abilità sotto la neve fin tanto che questo pokemon nella nostra panchina preveniamo tutti i danni inflitti a questo pokemon da qualsiasi attacco sia nostro che dell'avversario di rotom ne montiamo tutti uno per tranne quello psico che ne monto tre perché diciamo che il psico è anche in questo momento il tipo il tipo più facile da incontrare andiamo ad osservare un attimo i rotom e poi passiamo alla composizione del deck che ovviamente non avrà carte energia cosa figa taglio speciale 60 danni possiamo scartare un energia speciale assegnata al pokemon attivo dell'avversario trompigelo 10 più questo attacco infligge 20 danni in più per ogni energia segnata al pokemon del tuo avversario questi due sono uguali cambia solo la tipologia 120 danni il turno dopo non può attaccare non può attaccare il prossimo turno idem freccia lavaggio cosa attacco infligge 50 danni a uno dei pokemon nella panchina del nostro avversario e infine 80 danni a me il fuoco controllerebbe metallo poi tutti i pokemon sono belli perché a dispetto del del mazzo all'avversario noi cercheremo di mettere il pokemon che è più come si usa che super efficace che super efficace come si che debba in teoria però che super efficace noi metteremo il super efficace contro l'avversario ok si andiamo a vedere il telecarto oggetto purtroppo non ci sono in questo momento stai riuscito ben da scelta i manubri sono uscito un bel po di oggetti simpatici però vediamo lo stesso di fare campo 4 skateboard di fuga 2 tavole di inversione che è la stessa cosa solo che questa puoi ritirare anche se paralizzato o addormentato e la ritirata costa uno in meno però noi abbiamo tutti i pokemon alcuni ritirata lui fa sempre ritirare alcuni in meno solo che se questa carta viene scartata la riprendiamo dalla pila degli scarti due cinture frenesia non è la ben da scelta però può servire se il pokemon ha segnato questo a cui segnato questa carta 30 ps o meno rimanenti e se ha dei segnalini danno i suoi tacchi infliggono 60 danni in più al pokemon attivo dell'avversario difficilmente succederà questo però se succederà il nostro pokemon può fare 180 danni ma in terzo si potrebbe sbizzarire ci ho montato due bombe giganti se questa carta hai assegnato uno dei pokemon dei tuoi pokemon scartala fino alla fine fino scartala fine del turno del tuo avversario la bomba gigante e la carta ni però contro certi pokemon serve tipo contro il fuoco contro il drago con i pokemon che fanno attacchi veramente grossi perché dice che se il pokemon a cui ha segnato questa carta subisce 180 più danni mette 10 segnalini danno al pokemon attaccante quindi i rotomus sono facili da uccidere ninters comprese in certi casi però se uno è costretto a fare quell'attacco per shottare cioè non ha una via di mezzo e ti deve shottare per forza il pokemon il tuo il nostro pokemon attivo comunque si beccherà 10 danni e poi il turno dopo cercheremo di ucciderlo lo stesso però pensate anche che molti di questi oggetti servono anche per essere scartati soprattutto come gli amuleti folletto in qualche modo dovevamo avere degli oggetti da scartare ce ne abbiamo di tutti i tipi l'unico che ho messo a doppio è l'amuleto folletto abilità e l'amuleto folletto drago poi c'è erba elettro una psico una lotta e una ultra creatura che cosa fa previene tutti i danni i nostri pokemon folletto a cui ha segnato questa carta dei pokemon gx o ix di quel tipo di quel tipo di quella di quell'abilità cioè questa dice l'unico l'unico modo diverso perché dice sono dei pokemon gx o ix che hanno dell'abilità quindi che ne so zera ora o silvalli mewtwo mutuo il mio perfetto tutta creatura ci sono le ultracreature le drago che sono principalmente per il mazzo che stavano di più che il naganade o di alga c'è il di alga si con archieus e infine forse gli oggetti ma in quello c'è pure l'abilità chi di alga no 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 l'abilità però sono e draghi si si e fanno pure forse 180 danni e infine forse l'oggetto più forte più utile insieme allo skateboard di fuga e la spettro targa perché la potenza segnale al nostro abbiamo ovviamente scusate 150 i nostri amuli tiffo a letto a ninters e le spettro targhe e i nostri rotom che ne abbiamo tre come tre sono le spettro targhe in tutto dovrebbero essere se non ho fatto male i conti 22 carte oggetto pokemon 3 6 si 22 oggetto pokemon come le scartiamo andiamo a vedere vabbè quattro borsa avventura per andare a cercare e riempire la mano delle nostre delle nostre carto oggetto come strumenti abbiamo quattro biciclette guardiamo due scartiamo uno e uno in mano due comunicazioni pokemon perché ci potrebbe servire proprio il niter sol pokemon il rotom che vogliamo in quel caso però se bastano due come bastano due a chi ha proprio un potenziato è utile oltre al fatto che scambiamo un po gx o ix dalla panchina lo mandiamo attivo dell'avversario e inoltre scartiamo due carte da mano per attivare lei e quindi scartare oggetto per poter potenziare il nostro niter o attivare abilità dei nostri rotom due caos gravitazionale che fortissimo come stadio in questo caso la nostra minaccia più grossa potrebbe essere elisio o quello stadio polare che dice che se ha 30 o meno punti vita non possono attaccare i nostri pokemon quindi lei questo stadio che fa non solo quando viene scartato 30 quando lei sta in gioco ogni volta che un giocatore gioco la carta stadio che in mano scarto con la carta dopo aver scartato questa perciò lui distruggerà il caos gravitazionale però con lo stadio si autodistruggerà e in più anche per rallentare l'avversario 40 o meno perciò i nostri essendo piccoli serve e poi è bello che spacca anche gli stadio se vuoi l'attacco di Deoxys che fa 26 nel mi danno completo li abbassi tutti al 40 e infine le carte aiuto molto banali ma molto troppo utili in questo deck 4 api guardo le prime 6 carte del mazzo ne aggiungo 2 alla mano e le altre 4 le scarto 4 vacanziella scelgo qualsiasi numero di cartico in mano scarto tutto il resto e pesco fino ad avere 5 carte in mano e 20 e tonno guardo la prima carta del mazzo e poi scelgo o scarto le carte che in mano e pesco 5 carte o scarto le carte che in mano e pesco 5 carte in fondo al deck nell'ultimo caso solo vediamo che abbiamo l'interso sopra ma poi non ho capito vabbè secondo me è una credinata come abilità però alla fine può essere utilizzata con qualcosa che te le fa guardare che te le fa guardare e sistemare magari tu guardi vedi che non c'è niente la sistemi comunque però poi le peschi da sotto per il sopra non ti serve ma è una carta le peschiamo altre 4 non fu una eh no sono tre ci sono le carte quelle che ti fanno ordinare il mazzo sopra tipo poche 9 eh capito poche 9 va bene e vabbè i 10 aiuti sono obbligatori perché noi dobbiamo scattare le carte che abbiamo in mano o api fortissime perché avendo 22 carte oggetto abbiamo molta probabilità che sono le carte oggetto da scartare insieme alla bici già al secondo turno dovremmo riuscire ad attivare l'abilità dei nostri rotom non dico al primo turno si può fare però dipende anche da quante borsa avventura abbiamo pescato pensate peschiamo due facciamo vacanziera con qualche bici forse ci arriviamo pure però l'importante che già dal secondo turno iniziamo picchiare con il rotom è figo questo deck pure perché dopo diventa ultra veloce perché ogni volta la misura ti sconfiggere per forza sei pokemon lasciando stare qualche attacco gx speciale per forza credo che sia uno dei mazzi che abbia più subito l'abbandono di guzma sì perché non puoi giocare più sul l'avere tutti i pokemon diversi e quindi andare contro tutti sì quello sì però è ultra veloce ed è figo e poi diciamo all'interso da una botta in più perché è un pokemon che può arrivare pure a fare 150 danni con 0 4 3 giro si è super efficace ok raga fatemi sapere cosa ne pensa del deck iscrivetevi al canale pollicione in su supportate richiedete il vostro deck che volete che faccio grazie mille per la visione al prossimo video ciao